Ciao a tutti ragazzi, bentornati con un nuovissimo video. Allora, nel video di oggi faremo un unboxing di un pacchetto che mi è arrivato, come avete potuto vedere dall'anteprima, da Stationary Paul, che è un sito che vende articoli di cancelleria, alcuni super famosi, altri invece che magari non avete mai visto, però ci sono degli articoli bellissimi. Mi hanno contattato per fare questa collaborazione e ho potuto scegliere alcuni articoli da inserire in questa box e adesso lo andremo a vedere assieme. Tenete conto che questa scatola ce l'ho da un giorno e non ho proprio osato vedere cosa ci sia all'interno perché volevo essere onesta al 100%, quindi fare una vera e propria reaction sul momento. Ok, aprendolo possiamo notare che qua ci sono pluriball a forma di cuoricino. Cioè ragazzi, quanto è carina questa cosa? Tra l'altro io sin da quando sono piccola che amo schiacciare il pluriball. Soddisfacente. Aprendolo possiamo notare che le decorazioni messe all'interno sono troppo carine, guardate, sono dei piccoli cuoricini, super super carini. So che mettono all'interno anche oggetti in più che non sono stati richiesti, ad esempio guardate che belle queste gommine qua. A forma di ciambella, a forma di ciupa ciupa. Guardate che carino questo. Allora adesso vediamo di, oh mio dio, ci sono tantissime, sto facendo un casino. Dovrei aver finito con le gommine, queste le vado a mettere qua da parte. Poi, ah che bella, questa so già dove metterla perché ho preso una cosa sulla quale potrò mettere questa spilla. Guardate che bella, con scritto just smile. Oh guardate ragazzi, un'altra spilla ho trovato, let's go, questa è bellissima. Ho trovato un'altra gommina, oddio ragazzi, altre gommine, c'è un'altra, oddio ragazzi, altra gommina a forma di ciupa ciupa, altra spilla. Tra l'altro questa con una sorta di instax mini che io ho, però non ce l'ho rosa, ce l'ho viola. Si può già intravedere che cosa io abbia scelto. Allora, prima cosa che salta ai miei occhi sono questi. Ebbene sì ragazzi, ho deciso di acquistare i Zebra Mildliner Brush in queste colorazioni, che tra l'altro sono delle colorazioni che io ho per evidenziatori. E sono le colorazioni che io chiamo scure e calde, come potete notare. Il marrone, l'arancione, il giallo che io chiamo polenta, il viola e questo blu petrolio bellissimo. Questi cuoricini sono adorabili. Vediamo assieme come sono all'interno. Sono sempre doppia punta, come gli evidenziatori, quindi hanno la punta qua a pennarello, la classica punta a pennarello, mentre qua hanno la punta a brush. Tra l'altro è bellissimo il pack. Ero super curiosa di provarli perché ho visto sia su Instagram che su YouTube molti che le hanno acquistate. Mettiamoli qua. Una spilla. Mi ero persa una spilla. Altra cosa che vedo sono queste scatoline che sono, tra l'altro, della stessa marca. Sono dei washi tapes. Altra gommina. Allora, questi washi tapes sono con queste trame. Quindi questa con la mongolfiera, anzi le mongolfiere. E questo con dei pallini colorati, che sembrano dei pianeti. Adesso li apriremo assieme per vedere l'interno. Io non volevo rompere la scatolina. Oh, ok ragazzi. Ecco qua. Questo è il primo washi tape. Come potete notare, sono, credo siano dei pianeti, sì. Non dei pallini colorati, ma dei pianeti. Guardate che bello. Le colorazioni sono bellissime, perché sfumano e vanno dal blu-viola fino a un rosa e arancio. Quindi sono molto belle queste colorazioni. Altra cosa che salta ai miei occhi sono questi stickers. Questi sono troppo carini. Sono 80 stickers, all'interno dei quali potete notare che ci sono praticamente dei cibi tipici giapponesi. Vedete i sushi e niente. Anche questi ovviamente verranno utilizzati per il bugio. Poi, anche questi li ho presi apposta per il bugio. Praticamente quasi tutto quello che ho acquistato è per il bugio. Allora, questi sono stickers fatti in questo modo. Tipo una sorta di post-it, ecco. Ci sono all'interno quattro fogli e ho scelto di prendere le gradazioni sul rosa e quelle sul viola lilla. Quindi ho deciso di prendere queste colorazioni. Ecco, all'interno potete notare come sono fatti. Troviamo questi quattro fogli. Quindi abbiamo questi rettangoli quadrati, questi altri rettangolini con gli angoli arrotondati. E poi due fogli con dei cerchi. E queste sono le colorazioni. Altri stickers, e ho deciso di prendere questi qua, che ricordano molto una pennellata di acquerello. Molto bello. E l'ho preso queste colorazioni che sono sul blu, tendente al blu, ecco. Un azzurrino cielo e blu. Si vedono tutte e cinque le colorazioni. Anche questi ovviamente per il bugio. Anche se si potrebbero utilizzare per lo studio, adesso vediamo. Altra cosa che ho acquistato sempre per il bugio, ma non solo, è questa colla. Che da lontano può sembrare un bianchetto, ma in realtà è una colla stick. L'ho sempre vista utilizzare da altre pagine di bugio. E devo essere sincera, mi sembra super comoda da utilizzare piuttosto che la classica colla. E quindi ho deciso di prendere questa in questa colorazione azzurra. Sempre per il bugio. Guardate cosa ho preso. Altri washi tapes. Questi quattro fanno parte della stessa collezione. Ho scelto queste quattro trame. Questa che mi ricorda i Ghirigori che facevo alle elementari per decorare i fogli. Poi abbiamo questo qua. Dovrebbero essere dei fiorellini azzurri. Molto delicata come trama. Qua abbiamo sempre foglie e un pallino rosa che ricorda quasi un fiore. E poi queste che sono delle foglie, sempre sui toni del blu. Questi mi hanno colpito particolarmente perché mi ricordano molto il Natale. Anche se ovviamente il nero non è molto natalizio, però loro sì. E così anche queste altre decorazioni bianche e oro, un po' come le mie unghie. Ah, un'altra spillina. Sempre stickers. Questi sono tutti dei fiori, delle piante. Adesso li vedremo assieme. Ecco qua, questi sono stickers. Sono molto carini. Sono tutti a tema, come ho detto prima, piante, fiori. Insomma, sono tutti fatti così. Adesso passiamo agli stickers. Quelli che appena li ho visti ho detto no, li devo assolutamente prendere. Questi stickers sono molto carini. Non so perché, mi ricordano molto gli stickers che vengono utilizzati sui bugio delle coreane. Che io seguo tante pagine inerenti alla cancelleria coreana. E usano questi stickers non solo per i bugio, ma anche per decorare i loro telefoni. Questi stickers sono meravigliosi. Soprattutto questo qua mi piaceva tantissimo. E anche questo qua con gli smile. Guardate che belli. Altri stickers. Ho deciso di prendere quelli con i giorni della settimana. Altra serie di stickers. Questi stickers fanno parte della stessa collezione. Hanno un nome, però è giapponese. E ovviamente io non so leggere il giapponese. Però sono super super cute. Come si può notare. Anche questi. Ovviamente ogni variante di stickers ha all'interno stickers differenti. Non vedo l'ora di applicare anche questi sul bugio. Allora, questi sono dei memo. Questi memo li ho presi da utilizzare per lo studio in realtà. Sono degli sticky memos. E sono di queste colorazioni qua. Mi piacevano particolarmente tanto. Quindi ho deciso di acquistarli. Però possono essere utilizzati ovviamente anche per il bugio. Ok, mi sono dimenticata anche questo. Ho preso anche questi stickers qua. Che ovviamente fa parte di questa collezione qua. Altri stickers. Sempre super carini. Mi spiacerà usarli, però li ho presi apposta. E questi fanno parte di questa collezione. Vi avrei voluto far vedere tutto assieme. Però ovviamente essendo una reaction vera e propria. Non so bene dove siano collocati tutti gli oggetti. Ecco. Continuerei con gli stickers ragazzi. Così almeno sì. Ho preso tanti, tanti, tanti stickers. Allora, ve li faccio vedere alla veloce. Così tanto comunque questi stickers si vedono tutti. Perché non sono quelli che si vedono proprio così a primo impatto. Non hanno altri stickers all'interno. Sì, forse ho esagerato ragazzi. Però così posso finalmente dire di poter decorare il bugio senza dover acquistare ulteriori stickers. Questi stickers sono classici stickers super cute. Io adoro questa tipologia di stickers. Ho preso anche questi qua. Questi che mi ricordano molto la scuola. Netflix Time. Ultimamente sto guardando solo Netflix. Sempre tema scuola. Tema caffè. Mi manca tanto il caffè del bar. Sempre bar. Geografia. Questo mi piaceva tanto. Io sono pro LGBT quindi non potevo non prenderli. Poi abbiamo questi. E ovviamente ragazzi non potevo che non prendere anche quelli a tema Harry Potter. Ok ragazzi. Credo che gli stickers siano finiti. Allora io direi di continuare con ecco questi sono altri washi tapes. Ho deciso di prenderli. Questi non ve li tiro fuori perché sono tutti questi qua che vedete qua all'interno. Sono praticamente a quadretti. Mi piacevano molto perché mi ricordavano appunto i quadretti dei quaderni. E ho deciso di prendere perché il mio bugio perché avesse già visto i miei video sul bugio ha le pagine color marroncino tipo così perché è fatto con carta riciclata. Quindi queste colorazioni bianche non ci sono e ho pensato appunto di puntare su dei washi tapes a base bianca. Altri washi tapes ebbene sì. Non posso neanche più lamentarmi il fatto di washi tapes. Allora questi sono dalle colorazioni sempre su rosa, viola, lilla più queste qua che hanno delle trame un po' più particolari. Altra cosa che mi ero dimenticata di aver preso erano sempre i brush pen della Mildliner. Però nelle colorazioni invece quelle un po' più fredde, scure e fredde. Adesso vi prendo quelli che vi ho fatto vedere prima. Vedete questi qua. Ho deciso di prendere queste due confezioni. Ci sarebbe anche l'altra con le colorazioni fluo però io non ho preso quella lì perché non mi piacciono molto quelle colorazioni. Infatti anche a livello di evidenziatori sono quelli che uso meno della Mildliner. Passiamo alle penne evidenziatori perché ho preso anche quelle. E ho appena notato che è uscita poi un'altra spilla. Ebbene sì, ho preso degli evidenziatori della Mildliner perché praticamente non ho trovato la confezione degli evidenziatori. Magari non ho guardato bene io. E ho preso tre colorazioni di quelle confezioni di Mildliner che non avevo. Ovvero queste tre che sono un verde lime, questo che sembra un viola bluet. E questa qua che è un rosso arancio, mi piacevano tantissimo. Ho deciso di prendere queste tre colorazioni. Ovviamente sono classici midliner quindi punta evidenziatore e punta pennarello qua. Mentre di penne ho voluto prendere le sarasa. Finalmente ho deciso di provare le sarasa. Avevo preso una sarasa colorata pastel a Milano. Però poi ho detto vabbè aspetto di trovare la confezione. Qua non ho trovato la confezione, le ho trovate singole. Quindi ho deciso di prendere queste tre colorazioni. Abbastanza scure come potete notare perché questa è una sorta di arancione. Arancione, giallo, arancio. Questo blu scuro e questo verdone. La particolarità è anche per il fatto che qua abbiano questa clip che potete appenderla all'agenda, al quaderno insomma. E la punta è 0.5. E ho preso anche delle sarasa. Queste qua. Queste sono particolari. Come potete notare anche dal pack. Ebbene sì, hanno la doppia colorazione. L'interno è bellissimo. Già si può capire le colorazioni che ci sono dentro. Questo ha una sorta di viola, perché è il blu e il rosa, viola e verde. Mentre questa ha il blu e il viola, più o meno sì. Altra cosa che ho preso, e questa l'ho presa per metterla sulla scrivania. Questa è una sorta di porta washi tapes. Ecco. Praticamente qua andrebbero messi i washi tapes. E poi questa parte qua viene utilizzata per strappare i washi tapes. Quindi diciamo che mi aiuterebbe anche a non occupare troppo spazio con i washi tapes. Infatti li metterei tutti qua. E niente, questo mi sembrava un acquisto molto molto carino e utile soprattutto. Altra cosa, stiamo arrivando verso la fine. Allora, questo ragazzi, ho azzardato a prenderlo. Perché è un quaderno. Questo quaderno è bellissimo. Io adoro tutto ciò che riguarda lo spazio, il cielo. Quindi ho deciso di prenderlo e di utilizzarlo come quaderno per annotarmi le cose. O magari anche per, non so, per qualche cosa inerente alla tesi da scrivere. Becca così, guardate che bello. È bellissimo. L'interno, tra l'altro, da notare che anche qua ci sono disegnate le costellazioni e i pianeti. Bellissimo. L'interno è classico ed è bianco. In realtà questo quaderno, secondo me, può essere utilizzato anche come bugio, ecco. Io non lo utilizzerò per quello, però ho detto perché non provare a prenderlo. Allora, siamo arrivati verso la fine. Oh, che carini. Guardate ragazzi cosa mi hanno messo in più. Già solo che c'è l'astronauta, adoro tutto ciò. Ecco qua. Ragazzi, guardate, mi hanno messo dentro un calendario 2021. Che carini. Carina come idea. Bella. Io ogni volta che apro i calendari vado sempre a vedere com'è la stampa del mese di giugno, che è il mese del mio compiano, quindi quando sono nata io. E come ultima cosa... Altra spilla da mettere insieme alle altre. Guardate, questo è bellissimo. E ultima cosa dell'altra spilla. Dopo devo vedere quante spille c'erano all'interno. Questa l'ho presa come sfizio. Allora, non l'ho presa sfucci perché ne ho già tantissimi. E allora ho deciso di prendere... Cioè ragazzi, questo quando l'ho visto ho detto no, lo voglio troppo. Questo zainetto fatto in questo modo, di questo jeans verde militare, un verdone. All'interno c'è anche il taschino. Cioè, questo zaino è bellissimo. Infatti non vedo l'ora di poterlo riutilizzare magari quando dovrò andare a dare gli esami, sempre se verranno fatti dal vivo. E niente ragazzi, questo è quasi tutto quello che ho trovato dentro il pacco. Quasi tutto perché non sono riuscita a mettere dentro tutte le cose per fare la foto di copertina. Perché vedrete questa foto di copertina. E niente ragazzi, questo è tutto quello che mi è arrivato da Stationary Pal. Che ringrazio ancora per la collaborazione. Vi lascio qua sotto, tra l'altro, in descrizione il link per andare sul sito di Stationary Pal se siete interessati ad acquistare qualcosa. Vi lascio quindi tutti i link anche degli eventuali prodotti. Fatemi sapere qua sotto quale prodotto vi è piaciuto di più, quale di meno. Se avete già acquistato su Stationary Pal. Non solo c'è il sito web, ma anche la pagina Instagram e Facebook. Quindi, se il video vi è piaciuto ragazzi, mi raccomando, lasciate un bellissimo like per supportare non solo la pagina, ma anche il video. Se volete più video del genere, fatemelo sapere. E niente, vi ricordo che sempre sotto in descrizione trovate i link per la mia pagina Instagram e il mio TikTok. E niente, direi che ci vediamo con un prossimo video. Ciao! 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 Grazie.